Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi parliamo di due uomini, due scomparse e un legame comune. Entrambi sono stati visti l'ultima volta dallo stesso agente di polizia. Philip Santos e Terrence Williams hanno poco in comune, a parte il fatto che si sono trasferiti in Florida nella speranza di costruirsi una vita migliore. Sebbene vivano nella stessa contea, non si conoscono e le loro strade non si sono mai incrociate. Quando però scompaiono entrambi a distanza di tre mesi l'uno dall'altro, i loro nomi vengono inevitabilmente collegati. Ma andiamo con ordine, cominciamo a presentare Philip Santos, un cittadino messicano. È il secondo di cinque fratelli. Trascorre gran parte della sua vita nello stato rurale di Oaxaca. Ha una buona reputazione, è un uomo umile, ma nonostante si dimostri laborioso, il lavoro scarseggia nella sua povera città natale. Proprio per questa ragione, Philip, sua moglie a Polonia e due dei suoi fratelli, Jorge e Salvador, emigrano negli Stati Uniti, ovvero riescono a entrare illegalmente. La ricerca di un futuro più stabile conduce la famiglia nella grande Florida. Si stabiliscono a Emokli, un'area della contea di Collier satura di terreni agricoli. La maggior parte della forza lavoro è composta da immigrati messicani, haitiani e guatemaltechi, molti dei quali rimangono negli Stati Uniti solo per un breve periodo, preferendo accumulare i loro guadagni per poi tornare nel loro paese d'origine. La famiglia Santos si adatta perfettamente a questo nuovo ambiente, ma Felipe vorrebbe far fruttare la sua esperienza come operaio edile, cosa che però si dimostra difficile. Quindi i tre fratelli finiscono tutti con il trovare un impiego nell'ambito dell'agricoltura. L'agricoltura fornisce loro una fonte di reddito immediata, inoltre la famiglia tende a spendere poco per i propri interessi, inviando il ricavato del loro duro lavoro ai parenti nella città di Hoaxaca. La famiglia Santos vive ormai negli Stati Uniti da quasi tre anni e si è guadagnata una buona reputazione, la gente sa di avere a che fare con persone laboriose ed affidabili. E proprio in questa situazione rilassata e stabile, Felipe e Apolonia nel 2003 scoprono da aspettare il loro primo figlio. E sarà proprio questa scoperta a spingere Felipe a cercare con più perizia un nuovo impiego, riuscendo ad iniziare una nuova mansione presso un cantiere in una contea vicina. La nuova occupazione di Felipe gli frutta uno stipendio ben più alto, ma il cantiere dista circa 30 miglia dalla sua casa. Nonostante Felipe sia un autista competente, il suo status di immigrato illegale gli rende impossibile ottenere una patente in Florida e, vista la grande distanza dal cantiere, né camminare né i mezzi pubblici sono una buona opzione. Nonostante questo però decide di fare il possibile per ottenere illegalmente patente ed assicurazione, pur consapevole del grossissimo rischio che corre ogni volta che si mette alla guida. Eppure i mesi passano senza troppi problemi e ben presto anche i suoi fratelli vengono assunti per lavorare nello stesso cantiere. Il viaggio di 30 miglia ogni mattina verso il cantiere diventa ben presto solo un'altra parte della routine quotidiana dei fratelli. Tutto però cambia il 14 ottobre del 2003. Felipe non si sente bene quella mattina, ma decide comunque di alzarsi per andare al lavoro. A Polonia lo incoraggia a rimanere a casa, a riposare, ma Felipe tiene a quel posto di lavoro, ci pensa dunque un attimo ma non vuole perdere un giorno di paga. È fiero di se stesso perché guadagna abbastanza soldi per assicurarsi che sua moglie e sua figlia di appena tre mesi abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere una vita confortevole e dignitosa. Scrollandosi di dosso le preoccupazioni di sua moglie sulla sua salute, insiste sul fatto che sarebbe andato tutto bene. Dopo aver salutato sua moglie e sua figlia, si prepara per affrontare il viaggio con i suoi fratelli. Fuori il mondo è ancora buio, è mattino presto, ma l'uomo è sereno. Quella è solamente una giornata uguale a mille altre e, ormai, ha percorso quello stesso tragitto innumerevoli volte. Eppure la stanchezza mischiata al malessere portano Felipe a compiere un piccolo errore di distrazione. Infatti, arrivato all'incrocio tra Immokley Road e Airport Palling Road, attorno alle 6.30 del mattino, l'uomo si rende conto di essere inadvertitamente finito nella corsia di svolta, invece che attraversare l'incrocio. Nel tentativo di fare un rapido cambio di corsia, Felipe va a sbattere contro una vettura che stava proseguendo sul rettilineo. Fortunatamente si tratta solo di un incidente leggero, nessuna delle due vetture viaggiava ad alta velocità, nessuno è ferito e le macchine sono ancora ambedue funzionanti. Gli due conducenti si fermano nel parcheggio del centro commerciale Green Tree Center, per non ostacolare il traffico, quindi scendono dalle loro auto per ispezionare i danni. Felipe ha tamponato l'auto di Camille Churchill, una donna che scende dal veicolo dimostrandosi piuttosto calma, ma dopo tutto è stato solo un inconveniente, certamente seccante, ma nulla di grave. Eppure rimane quasi stupita quando vede Felipe e i suoi fratelli guardarsi attorno guardinghi e molto spaventati. Reazioni che a Camille sembrano davvero esagerate per un semplice piegamento del paraurti. Incerta su cosa fare, la donna estrae il cellulare e chiama suo marito per un consiglio, il quale la esorta a chiamare la polizia a sforgere denuncia per l'incidente. La donna segue le sue indicazioni, ma questo sembra agitare ulteriormente i fratelli Santos, che sono chiaramente così preoccupati per il loro status di immigrati illegali. Cercano quindi di negoziare con la donna, offrendole del denaro per risarcire i danni subiti dalla vettura, in cambio di non chiamare la polizia. I tre fratelli però parlano un inglese stentato e limitato. Camille non è nemmeno sicura di quanto loro stiano dicendo e si fa più irrequieta. Rifiuta i contanti che i fratelli le propongono e decide di proseguire con il consiglio datole dal marito. Un'auto di pattuglia viene inviata non appena Camille chiama per denunciare l'incidente e il vice Stephen Colkins è sul posto in pochi minuti. Colkins è un veterano del dipartimento dello sceriffo della contea di Collier, lavora lì da 17 anni e gode di una reputazione stellare. Il suo fascicolo personale è pieno di elogi, sia da parte dei supervisori che dei cittadini. Mentre Camille ancora non riesce a spiegarsi il perché di tanta agitazione da parte dei fratelli Santos, il vice sceriffo non impiega molto per accertare cosa stia succedendo ed arresta immediatamente Felipe accusandolo di guida negligente, guida senza patente e assenza di assicurazione valida. In totale le tre accuse ammontano a 2000 dollari di multa e viene chiesto a Felipe di comparire in tribunale il mese successivo. I testimoni che vedono l'interazione tra il vice Colkins e Felipe lo descrivono come cordiale. Nessuno in quell'occasione aveva alzato la voce, inoltre non avevano assistito a nessun tipo di alterco fisico. Camille nota che il vice sceriffo sembra essere un po' esasperato dalla situazione, infatti quest'ultimo si lascia sfuggire anche un commento. È davvero stufo di fermare persone che guidano senza una patente valida. Non viene però proferita parola riguardo alla mancata cittadinanza di Felipe. Jorg e Salvador sono invece liberi di andare, non vengono interrogati o arrestati. Tutto quello che possono fare è guardare impotenti Felipe arrestato e messo sul retro dell'auto di pattuglia. Il vice sceriffo Colkins ricorda loro di contattare qualcuno in possesso di una valida patente per recuperare l'auto di Felipe. Subito dopo sa lontana. Salvador e Jorg si recano al cantiere in cui lavorano per raccontare al loro capo quanto successo. I fratelli sono comprensibilmente sconvolti e il loro capo fa il possibile per calmarli e sapendo del loro inglese limitato si offre di contattare la prigione per informarsi sul da farsi per fargli ottenere la libertà a Felipe. Il capo di Jorg e Salvador chiama la centrale al termine del turno lavorativo. Con un po' di fortuna, sostiene il loro datore, sarebbero riusciti a farlo uscire dalla cella il giorno stesso e Felipe sarebbe stato a casa ancora prima che sua moglie potesse accorgersi che era stato arrestato. L'operatore che accoglie la telefonata lo mette in attesa per un paio di minuti, poi torna in linea con la notizia che nessuno con quel nome è nel carcere della contea. Confusione e preoccupazione diventano immediatamente palpabili. L'ultima volta che hanno visto Felipe era in manette, nel retro di un'autopattuglia. Se non è in prigione, dov'è? Consapevoli che Felipe aveva con sé dei contanti, i fratelli si domandano se non sia forse riuscito a pagare la sua stessa cauzione ed uscire, tornando quindi a casa. È un pensiero ottimista, ma quando tornano a casa di Felipe si rendono conto che dell'uomo non c'è traccia. Sebbene siano un po' angosciati, i fratelli non si fanno prendere subito dal panico. Supponendo che si sia trattato di un errore, decidono di chiamare nuovamente il carcere la mattina seguente, sperando che Felipe sia entrato nel sistema. Sfortunatamente ricevono la stessa risposta del pomeriggio precedente. Felipe non risulta presente nella prigione della Contea. Nessuno con quel nome è stato arrestato, a dirla tutta. Quindi non c'è alcuna traccia dell'uomo. Incerti su cosa sia successo al loro fratello, Jorge e Salvador si recano nell'ufficio dello sceriffo per vedere se possono fare luce sulla situazione. Gli agenti confermano che Felipe non è stato arrestato, ma vedono che sono state emesse diverse citazioni dal vice Colkins. Quando parlano con il vice, questi spiega che aveva sì ammanetato Felipe. Subito dopo l'incidente stradale, tuttavia il messicano era stato talmente educato e collaborativo durante l'incontro da decidere di lasciarlo stare e di non portarlo in prigione. Le citazioni che aveva dunque dato a Felipe comportavano solamente sanzioni pecuniarie e gli richiedevano di partecipare a un'udienza in tribunale. Ritenute queste punizioni sufficienti, aveva rilasciato l'uomo in una vicina stazione di servizio, ossia il Circle K. Le parole del vice Colkins lasciano i fratelli Santos con più domande che risposte a dirla tutta. Adesso sanno certamente perché Felipe non è in prigione, ma non hanno ancora idea di dove sia. L'uomo vive nella zona da alcuni mesi, ma stava in disparte e non aveva una vasta cerchia di amici. Se fosse stato nei guai avrebbe contattato prima i suoi fratelli o sua moglie, nella peggiore delle ipotesi, il suo capo, ma solo se non fosse stato in grado di mettersi in contatto con nessun altro. Ma nessuno aveva avuto sue notizie e la preoccupazione si fa crescente. Decidono di indagare un po' da soli nel tentativo di scoprire qualche indizio su dove il loro caro si sia cacciato. Partono dal Circle K dove il vice Colkins ha detto di aver lasciato Felipe. Cercano diverse fotografie di Felipe e le mostrano ad alcuni dipendenti della stazione di servizio, ma nessuno ricordava di averlo visto. Trovano la sua auto nello stesso punto in cui l'aveva lasciata il vice sceriffo Colkins, ma non c'era nulla che indicasse che Felipe fosse tornato al suo veicolo dopo l'incidente. Trascorrono due settimane la famiglia di Felipe ogni giorno aspetta speranzosa qualche notizia, ma ahimè non ci sono svolte e a questo punto Jorg e Salvador capiscono che c'è proprio qualcosa che non va. È una vera e propria stranezza. Insomma Felipe non sarebbe mai andato via volontariamente così a lungo senza tentare di contattare qualcuno della famiglia. Inoltre sono certi che non avrebbe mai abbandonato sua moglie e sua figlia di punto in bianco a quel modo. In certo su cos'altro fare, Jorg si reca alla polizia il 29 ottobre 2003 e denuncia la scomparsa di suo fratello. La polizia condivide le stesse preoccupazioni sulla sicurezza di Felipe, ma dice alla famiglia che non c'è molto da fare. Da adulto Felipe è libero di sparire e far perdere le sue tracce se vuole. Inoltre non ci sono prove che li portino a credere che Felipe possa essere la vittima di un omicidio. Gli agenti pensano invece sia più probabile che Felipe, di fronte a quelle multe costose, abbia semplicemente deciso di scappare da tutto e che probabilmente lo avrebbero trovato in Messico se l'avessero cercato, concludono gli agenti. Felipe deve comparire in tribunale il 24 novembre per le accuse derivanti dall'incidente e quando non si presenta all'udienza viene emesso un mandato di arresto. La polizia è convinta che sia scomparso volutamente per evitare di presentarsi in tribunale. La sua famiglia però non è d'accordo. Felipe è vicino alla sua famiglia, li ama immensamente così come ama immensamente sua moglie e sua figlia. Non avrebbe mai abbandonato volontariamente sua figlia. Quando diventa chiaro che l'ufficio dello sceriffo non sta facendo alcun tentativo di localizzare Felipe, i suoi fratelli decidono di forzare la mano. Presentano una denuncia formale contro il vice Colkins presso il dipartimento dello sceriffo della contea di Collier. Ciò costringe gli affari interni ad essere coinvolti nelle indagini, ma si affrettano a scagionare il vice sceriffo Colkins da qualsiasi accusa. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, nella scomparsa di Felipe non c'è alcun omicidio. Lo considerano scomparso volontariamente. Dopo alcuni mesi senza suo marito, a Polonia decide di lasciare la Florida per tornare a Oaxaca, in Messico. Presto la seguono anche Jorge e Salvador. Fatta eccezione per il suo capo e alcuni colleghi, non c'è nessun altro in Florida che conosce Felipe. E ci sono buone ragioni per pensare che il suo caso non sarebbe mai stato risolto, perché non ci sarebbero neanche state delle indagini. Il caso inoltre non ha attirato l'attenzione dei media e gli unici che hanno cercato attivamente Felipe sono i suoi stessi parenti. Passiamo ora al secondo protagonista di questo caso, Terrence Williams, un uomo afroamericano di 27 anni che vive a Naples, in Florida. Non ha mai incontrato Felipe Santos. Terrence cresce a Chattanooga, nel Tennessee, e vive in Florida da circa due anni quando scompare. Si trasferisce perché vuole essere più vicino a sua madre e inizialmente rimane da lei e il suo nuovo marito. La convivenza però non dura lungo, poiché lui e il suo patrigno non vanno molto d'accordo. Dunque Terrence si trasferisce in una casa con una coinquilina e un conquilino, ma rimane vicino a sua madre e la chiama ogni giorno. Terrence ha un passato un po' travagliato, ma lavora duramente per rimettere in sesto la sua vita. Mentre in Tennessee trascorre del tempo in prigione per rapina e inoltre prende anche una multa per guida in stato di ebrezza. Sfortunatamente la condanna per guida in stato di ebrezza comporta la sospensione della patente e che gli rende più difficile poter andare al lavoro. Di conseguenza Terrence, che è padre di quattro figli, rimane indietro con i pagamenti per il mantenimento. Si trasferisce in Florida sperando di trovare un lavoro meglio retribuito in modo da poter continuare a pagare il mantenimento dei figli. È diligente, non ha le mani bucate ed è bravo a risparmiare i soldi che guadagna. Torna in Tennessee a ottobre per un'udienza in tribunale riguardante 5.000 dollari per il mantenimento dei figli che deve ancora dare. L'udienza successiva è prevista per il 14 gennaio 2004. Terrence, che allunga i dreadlocks e un sorriso aperto e amichevole, è noto per essere estremamente meticoloso riguardo il suo aspetto. È impiegato come operaio edile e nel tempo libero si diverte a riparare automobili. Sebbene gli restano ancora sei mesi prima di poter riavere la patente, ha una Cadillac bianca che ha accuratamente restaurato e non vede l'ora di poterla guidare di nuovo. Terrence inoltre accetta un secondo lavoro come cuoco al Pizza Hut a Bonita Springs. Si trova bene a lavorare lì e i suoi colleghi sono tutti molto simpatici. Dal momento che a Terrence è proibito guidare, sua madre Marcia e la sua coinquilina si impegnano per assicurarsi che riesca ad andare al lavoro ogni singolo giorno. Terrence lavora da Pizza Hut il pomeriggio del 12 gennaio. Al termine del suo turno, Marcia, sua madre, va a prenderlo per accompagnarlo a casa sua. Terrence, una volta a casa, dice al suo coinquilino Jason che i suoi colleghi lo hanno invitato ad una piccola festa quella sera. Chiede a Jason se vuole unirsi a lui, ma quest'ultimo rifiuta. Terrence però è determinata ad andarci comunque a quella festa, la vede come una buona occasione per conoscere i suoi nuovi colleghi in un ambiente più rilassato. Ma la festa è a Bonita Springs che si trova a circa 20 miglia dalla sua casa Naples Est. Dal momento che Jason non vuole andare, Terrence non può avere un passaggio da lui e non vuole chiamare sua madre per chiederle un passaggio a tarda notte. Dunque prende una decisione in una frazione di secondo. Sebbene Terrence abbia completato i lavori di restauro della sua Cadillac nell'ottobre precedente, deve ancora guidarla. Non importa quanto allettante possa essere. Sa che avrebbe rischiato di finire in dei guai legali se fosse stato sorpreso alla guida con la patente ancora sospesa. Eppure, per qualche ragione, quella notte decide che è disposto a correre il rischio e guidare fino a Bonita Springs. Jason cerca di dissuaderlo, ma Terrence è deciso. Assicura a Jason che sarebbe stato estremamente attento e comunque dubita che ci sarebbero state molte auto di pattuglie quella domenica sera, a quell'orario. Jason non è convinto, ma non c'è niente che possa fare per impedire al suo coinquilino di andarsene. È passato molto tempo dall'ultima volta che Terrence ha guidato la macchina da solo, quindi mettersi al volante deve avergli dato un senso di libertà, quantomeno all'inizio del viaggio. Tuttavia Terrence, non molto tempo dopo essere partito, chiama Jason che riceve una chiamata sul suo cellulare da un numero che non riconosce. È Terrence che lo chiama da un telefono pubblico, ha visto delle luci lampeggianti dallo specchietto retrovisore, notando che ci sono in giro parecchie pattuglie della polizia. Sebbene sia chiaro che le luci lampeggianti non sono puntate su di lui, pensa sia prudente rimanere fuori strada per qualche minuto per ogni evenienza. Quindi chiacchiera con Jason per un paio di minuti, poi quest'ultimo va letto dopo aver parlato con Terrence. Quando si sveglia la mattina seguente è sorpreso di vedere che Terrence non c'è. Normalmente Jason tiene il cellulare in camera da letto mentre dorme, ma lo aveva inadvertidamente lasciato in soggiorno dopo aver parlato con Terrence la notte precedente. Controllandolo vede che ci sono due chiamate perse da un numero di telefono che non conosce. Entrambe le chiamate le ha ricevute intorno alle 4. Jason richiama il numero e apprende che appartiene a uno dei colleghi di Terrence. Non sa perché Terrence abbia provato a chiamare proprio lui, ma il collega di Terrence dice a Jason che si erano divertiti così tanto che la festa era proseguita ininterrottamente, fino all'alba. Erano circa le 6 del mattino quando Terrence se n'era andato, tra l'altro quella mattina sembrava particolarmente di buon umore. Terrence parla con sua madre quasi ogni giorno, ma quando la donna non riceve alcuna chiamata da Terrence quel giorno non si allarma più di tanto. Eppure, quando Marzia si sveglia lunedì mattina non riesce a scrollarsi di dosso alla sensazione che qualcosa non va, anche se non riesce a capire esattamente cosa la stia facendo sentire in quel modo. Quando quel giorno non riceve notizie di Terrence è preoccupata ma cerca di razionalizzare la situazione, dice a se stessa che sta reagendo in modo esagerato. Terrence è un adulto e fa due lavori, forse è impegnato e non può chiamare. Il panico non si diffonde fino al giorno seguente quando Jason contatta Marzia per sentirsi a notizie di Terrence. Le dice che non lo vede da domenica sera e inizialmente pensava che stesse semplicemente trascorrendo un po' di tempo a casa di sua madre. Jason, quando viene a sapere che Terrence non si è presentato al lavoro per i suoi turni di lunedì e martedì, si rende conto che qualcosa proprio non va. Perché Terrence non salta mai il lavoro. Marzia sente il cuore sprofondare quando Jason le dice che suo figlio era andato da sola ad una festa. Abunita Springs, nel disperato tentativo di trovare suo figlio Marzia, si reca alla sottostazione dell'ufficio dello sceriffo della contea di Collier a Naples e cerca di presentare una denuncia di scomparsa. Nessuno sembra preoccupato, le dicono anche in questo caso che Terrence è un adulto, dunque è libero di andare e venire a suo piacimento. Questa è la stessa risposta che Jorge e Salvador Santos avevano ricevuto tre mesi prima quando avevano cercato di denunciare la scomparsa del fratello. Come la famiglia Santos, Marzia giunge rapidamente alla conclusione che non può contare sulla polizia per indagare sulla scomparsa di suo figlio. Sembra che l'unico modo per trovare Terrence sia darsi da fare. Lei e i suoi cari sono gli unici intenzionati a trovarlo. Una delle prime telefonate fatte da Marzia è alla casa dei quattro figli di Terrence, nel Ternesee. È una chiamata straziante da fare. Kira, la sua figlia maggiore, è l'unica femmina e prende malissimo la notizia. È particolarmente vicina a suo padre e lo considera uno dei suoi migliori amici. I suoi tre fratelli sono troppo piccoli per capire appieno cosa stia succedendo, ma sentono la mancanza del loro padre e non riescono a capire perché la polizia non sia riuscita a trovarlo. Tutto ciò che Marzia può fare è assicurare ai suoi nipoti che sta facendo tutto il possibile per trovare il loro amato papà. Marzia è l'unico membro della famiglia di Terrence che vive in Florida. La maggior parte dei parenti è nel Tennessee. Sebbene non possano cercare fisicamente Terrence, iniziano ad effettuare diverse chiamate alle prigioni e agli ospedali della Florida, sperando che qualcuno sappia dire loro dove si trovi Terrence. Dopo un paio di giorni trascorsi a effettuare chiamate senza ricevere buone notizie, la famiglia inizia a scoraggiarsi. Finalmente, il 16 gennaio succede qualcosa. La sorella di Marzia riesce a localizzare l'auto di Terrence. Chiama dunque una compagnia di rimorchi che le comunica che hanno davvero la Cadillac Bianca nel loro parcheggio ed è lì da diversi giorni. Chiama immediatamente Marzia per darle la notizia. Alla fine scoprono una prova tangibile che avrebbe potuto aiutarli a localizzare Terrence. Secondo la compagnia, la Cadillac era stata rimorchiata il 12 gennaio, dopo essere stata trovata abbandonata vicino al Lodge Funeral Home. Ossia il cimitero del Naples Memorial Garden. Marzia chiama l'ufficio dello sceriffo della quantità di Collier con la notizia che l'auto di Terrence era stata localizzata. Non riesce a scrollarsi di dosso la paura che il corpo di suo figlio possa essere nel bagagliaio della sua stessa auto e chiede se può essere inviato un agente per esaminare la Cadillac. Sebbene alcuni degli effetti personali di Terrence siano all'interno dell'auto, non c'è traccia dell'uomo. Marzia decide di fare un giro in macchina fino al luogo in cui era stata ritrovata la Cadillac. Quando arriva lì nota diversi impiegati del cimitero che lavorano nei dintorni. Le possibilità che qualcuno di loro avesse assistito a qualcosa di rilevante per la scomparsa di Terrence sembravano scarse, ma Marzia si avvicinò comunque. Gli uomini dicono a Marzia che avevano effettivamente visto Terrence e la sua Cadillac bianca quel lunedì mattina. Poi le dicono un'altra cosa che avrebbe cambiato il corso delle indagini. Ma facciamo un passo indietro. Cos'è successo a Terrence? Mentre l'uomo riesce a evitare con successo la polizia mentre si reca alla festa domenica sera, la sua fortuna si esaurisce lunedì mattina. Mentre sta passando davanti al cimitero viene fermato. Gli impiegati del cimitero non sono abbastanza vicini da sentire cosa Terrence o il vice sceriffo stanno dicendo, ma sostengono che sembra essere una conversazione civile. Dopo un paio di minuti Terrence sale sul sedile posteriore dell'auto di pattuglia, ma non viene ammanettato e gli uomini non sanno dire se fosse stato arrestato o meno. Il vice si allontana ma torna circa 45 minuti dopo senza Terrence e fa in modo che la Cadillac venga rimorchiata dal parcheggio del cimitero. Grazie alle carte conservate dalla ditta di rimorchio, Marcia riesce a risalire al nome del vice sceriffo che aveva chiamato per far rimorchiare l'auto di Terrence. Armata di queste nuove informazioni, la donna chiama il dipartimento dello sceriffo. Con sua sorpresa, confermano che Terrence non era stato arrestato da nessuno dei loro vice. Marcia insiste per parlare con il vice sceriffo che aveva rimorchiato l'auto di suo figlio, ma le viene detto che è il suo giorno libero. Marcia però non molla, insiste fino a quando il centralino decide di chiamare il vice sceriffo a casa per vedere se può fare luce sulla situazione. Quando il centralino lo chiama, il vice sceriffo insiste sul fatto che lunedì non aveva arrestato nessuno e non ricordava nemmeno di aver rimorchiato una Cadillac. Il centralinista gli crede. Tuttavia, il vice sceriffo è l'ultima persona conosciuta da aver parlato con l'uomo scomparso, quindi viene interrogato. Non è particolarmente preoccupato, poiché si è già trovato in una situazione simile. Solo pochi giorni prima, un'indagine interna lo aveva scagionato da ogni accusa nel caso di un altro uomo scomparso. Il vice era Stephen Colkins, l'ultima persona conosciuta ad essere stata vista con Philip Santos prima della sua scomparsa, tre mesi prima. Quando Marcia scopre che il vice sceriffo ha affermato di non avere memoria di suo figlio o della sua macchina, è a dir poco confusa. Sono passati solo quattro giorni ed è difficile per lei credere che un agente esperto come Colkins possa dimenticare qualcosa del genere così in fretta. Se Marcia avesse saputo del collegamento tra il vice Colkins e Philip Santos sarebbe rimasta senza parole e sicuramente avrebbe chiesto ulteriori risposte. Ma ahimè, il caso di Felipe non era mai stato trattato dai media, quindi Marcia, così come il resto dello Stato, non ne erano a conoscenza. Alla ricerca disperata di nuove piste, gli amici e la famiglia di Terrence stampano dei volantini e iniziano a distribuirli a tutti quelli che incontrano per strada. Sperano che la loro costante presenza per le strade di Naples faccia pressione sul dipartimento dello sceriffo affinché indaghi sulla scomparsa di Terrence e alla fine riescono a raggiungere il loro obiettivo. Ma quando finalmente aprono un caso di persona scomparsa, gli investigatori scoprono il suo passato alquanto travagliato. Oltre ad aver scontato una pena in prigione per rapina, Terrence aveva due numeri di previdenza sociale e due date di nascita che usava in modo intercambiabile quando interagiva con le forze dell'ordine. Terrence non si era neanche presentato in tribunale nel Tennessee, quindi avevano emesso un mandato per il suo arresto nella contea di Hamilton. Gli investigatori ritengono che il mandato di arresto da solo sia una ragione sufficiente per voler scomparire volontariamente e se Terrence stava usando informazioni false era probabile che cercasse di nascondersi per iniziare una nuova vita altrove. Da adulto qual è, Terrence ha il diritto di scomparire. La polizia ritiene sia una perdita di tempo cercare qualcuno che non vuole essere ritrovato. Mentre Marsia continua la sua indagine sulla scomparsa di suo figlio, trova difficile non credere al fatto che gli operatori del cimitero fossero sicuri di aver visto Terrence salire sul sedile posteriore di un'auto della polizia. Non ha intenzione di lasciar cadere la questione solo perché il vice Colkins insiste sul fatto che non aveva avuto alcun incontro con Terrence. È determinata a trovare suo figlio e continua a chiamare l'ufficio dello sceriffo per avere risposte. Sebbene nessuno dei membri della famiglia di Terrence fosse a conoscenza dei parallelismi tra la sua scomparsa e quella di Felipe Santos, il dipartimento dello sceriffo della contea di Collier lo era certamente e tutti gli agenti ne furono turbati. Anche se il vice sceriffo Colkins aveva detto al commissario di polizia che non ricordava di aver avuto a che fare con Terrence o la sua macchina. Il dipartimento è consapevole del fatto che deve dare un'occhiata al caso ugualmente. Il 19 gennaio, una settimana dopo la scomparsa di Terrence, il vice Colkins incontra il suo supervisore per discutere dell'incidente. Avendo avuto un po' di tempo per pensarci, il vice ora afferma di ricordare di aver avuto un breve incontro con Terrence. Il suo supervisore dunque gli chiede di presentare un rapporto scritto riguardo l'incidente. L'agente Colkins spiega che era di pattuglia quando vide un'automobilista su una Cadillac bianca che sembrava avere qualche tipo di problema meccanico. Fece dunque cenno all'autista di accostare e l'autista si fermò nel parcheggio del cimitero. L'autista del veicolo disse al vice sceriffo Colkins che la sua macchina non funzionava bene e che temeva di fare tardi al lavoro. Il vice sceriffo si offrì di chiamare un taxi per lui, ma l'autista disse che non poteva permetterselo. Il vice Colkins dichiara che l'autista gli chiese se poteva dargli un passaggio per andare al lavoro, sostenendo che lavorava al Circle K su Wiggins Pass Road e il vice accettò di accompagnarlo. Chiese ai dipendenti del cimitero se era consentito lasciare la Cadillac Leaf in che non avesse potuto organizzare il traino e loro gli dissero che andava bene. Il vice sceriffo Colkins dice al supervisore che l'interazione era stata così breve che ottenne solo il nome di battesimo dell'autista, ossia Terrence. Mentre lo lasciava al Circle K, il vice sceriffo Colkins avvertì Terrence che la sua macchina non era registrata correttamente, ma Terrence gli assicurò che se ne era già occupato. Spiega che sia la ricevuta che i documenti di registrazione corretti si trovano nel vano portaoggetti dell'auto. Il vice Colkins dice che credeva che Terrence stesse dicendo la verità, ma presto aveva scoperto che gli aveva detto solo delle grandissime balle. Dopo aver lasciato Terrence al Circle K, il vice Colkins tornò al parcheggio dove era rimasta la sua Cadillac. Prima di far rimorchiare l'auto, controllò il vano portaoggetti, scoprendo che era vuoto. Nel rapporto dell'incidente scrive «Ora so che Terrence mi ha ingannato. Ho chiamato un demolitore pensando che la Cadillac fosse stata abbandonata o forse addirittura rubata». Quindi chiamò il Circle K e chiese di parlare con Terrence, ma gli fu detto che nessuno con quel nome lavorava lì. Ammette di essersi arrabbiato perché quell'uomo gli aveva mentito, ma assicura ai suoi supervisori che non ebbe più interazioni con Terrence e non aveva idea di cosa gli fosse successo dopo averlo lasciato al Circle K. Quando Marcia apprende la versione degli eventi del vice sceriffo, Colkins, capisce immediatamente che qualcosa non va. Non crede che Terrence abbia chiesto a un agente di polizia di accompagnarlo a lavoro o da qualsiasi altra parte. Contesta anche la dichiarazione del vice secondo cui la Cadillac non funzionava bene, insistendo sul fatto che era in perfette condizioni e che era stata in grado di portarla a casa dal deposito di rimorchio senza problemi. I filmati di sorveglianza delle telecamere di sicurezza del Circle K vengono esaminati, ma non c'è alcun segno di Terrence o del vice Colkins nel giorno in questione. Frustrati, Marcia e suo marito presentano una denuncia per cattiva condotta contro il vice Colkins e il dipartimento dello sceriffo della Contea di Collier. Non credono sia possibile che il vice Colkins abbia semplicemente lasciato andare Terrence senza nemmeno lasciargli una citazione. Non ha la patente di guida valida, la sua macchina non è immatricolata e non ha l'assicurazione dell'auto. Sono anche turbati dal fatto che al vice sceriffo Colkins non gli sia stato chiesto di fornire un rapporto scritto sull'incidente fino a una settimana dopo la scomparsa di Terrence. Al vice Colkins viene chiesto di sottoporsi al poligrafo riguardo la scomparsa di Terrence e lui accetta. Gli viene chiesto se quel giorno avesse lasciato Terrence al Circle K e lui dice di sì. Gli viene anche chiesto se avesse portato Terrence in un luogo diverso dal Circle K e lui dice di no. Supera senza problemi il test del poligrafo. Marcia, crede poco che il vice abbia superato il poligrafo senza problemi e a questo punto ha paura. Teme che dopo questo risultato gli investigatori smetteranno di cercare suo figlio. Decide così di coinvolgere i media. Il Naples Daily News pubblica un breve articolo sulla scomparsa di Terrence chiedendo al pubblico di stare allerta e di chiamare se avevano informazioni su dove si trovasse. Non molto tempo dopo la pubblicazione del primo articolo Marcia riceve una telefonata che cambia tutto. Il caso attira l'attenzione del consolato messicano a Miami. Sono curioso di sapere se Marcia è a conoscenza di Felipe Santos scomparsa in circostanze stranamente simili a sole tre miglia dal cimitero dove era stato visto per l'ultima volta Terrence. È la prima volta che Marcia sente il nome di Felipe. Sebbene il vice sceriffo Colkins avesse superato un poligrafo il fatto che fosse l'ultima persona ad aver visto due persone diverse immediatamente prima della loro scomparsa non può passare inosservato o essere ignorato. Insomma bisogna indagare. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse il dipartimento dello sceriffo della contea di Collier chiede a diverse agenzie esterne di occuparsi delle indagini. Poi il caso passa nelle mani del dipartimento delle forze dell'ordine della Florida, dell'FBI e dell'ufficio del procuratore di stato. Con il progredire dell'indagine gli investigatori riscontrano molte altre incongruenze nei rapporti sull'incidente che il vice Colkins aveva scritto. Il vice dice ai suoi supervisori che non conosce il cognome di Terrence. Durante l'incontro non glielo aveva chiesto ma dopo la chiamata per far rimorchiare l'auto ne fece un'altra per chiedere un controllo sui precedenti di Terrence Williams nato il 4 gennaio 1975. Seguendo la sequenza temporale fornita dalla sua dichiarazione scritta il vice Colkins aveva già lasciato Terrence al Circle K. Non c'erano documenti nella Cadillac che riportavano il cognome di Terrence quindi Terrence doveva per forza aver detto al vice sceriffo il suo nome completo. A complicare ulteriormente la questione è la data di nascita fornita da Colkins. Quella non è la data di nascita corretta di Terrence bensì è la data falsa che aveva usato in passato per ingannare la polizia. Il vice Colkins afferma che aveva usato il suo Nextel un operatore di servizi wireless americano per chiamare il Circle K dopo aver realizzato che non c'era alcun documento nel vano porta oggetti della Cadillac. Dice di aver trovato il numero di telefono dall'elenco telefonico che era tenuto nell'auto di pattuglia tuttavia quando i suoi tabulati telefonici vengono esaminati non mostrano chiamate effettuate al Circle K e nessuno dei dipendenti ricorda di aver parlato con il vice. Inoltre il numero di telefono di questo particolare Circle K non è nemmeno presente nell'elenco telefonico che il vice Colkins dice di aver usato. Mentre la loro indagine continua gli investigatori organizzano un altro esame del poligrafo per Colkins questa volta concentrandosi sulle numerose incongruenze della sua storia. Quando gli viene chiesto se Terrence era in macchina con lui quando aveva telefonato per eseguire un controllo dei suoi precedenti la sua risposta negativa indica che sta mentendo. Si ritiene che stesse mentendo anche quando aveva affermato di non avuto altri contatti con Terrence dopo averlo lasciato al Circle K. L'esaminatore conclude che il vice non è sincero dunque gli comunica che non ha superato il poligrafo. Incapace di fornire una spiegazione valida per le numerose incongruenze e con la sensazione che gli investigatori si stiano rivoltando contro di lui Colkins smette di collaborare e lascia la stazione di polizia. Assume un avvocato e si rifiuta di parlare di nuovo con gli investigatori. Mentre il poligrafo fallito eleva il vice Colkins allo stato di primo sospettato agli occhi di molti gli investigatori non sono in grado di dimostrare che fosse stato effettivamente commesso un crimine. Le prove circostanziali si accumulano ma non hanno prove fisiche che suggeriscano che Colkins abbia fatto del male ai due uomini scomparsi. Un'ampia indagine forense viene condotta sull'auto di pattuglia del vice ma non porta nulla. L'auto risulta tenuta molto bene e non sembra che sia successo nulla di violento al suo interno. Un dispositivo gps viene posizionato di nascosto sull'auto di pattuglia e gli investigatori lo monitorano per vedere se possono individuare aree isolate che il vice sceriffo Colkins potrebbe frequentare mentre è di pattuglia. Ancora una volta non trovano nulla. Dopo mesi di attenta indagine gli investigatori non sono in grado di trovare alcuna prova riguardo il vice Colkins. Non credono abbia ucciso lui gli uomini scomparsi. Certo sanno che non era stato sincero in alcune delle sue precedenti dichiarazioni su quanto era successo ma questo da solo non era sufficiente per accusarlo di omicidio. Aveva mentito e cercato di fuorviare gli investigatori dunque lo sceriffo non poteva più fidarsi di lui per mantenere fedelmente il suo giuramento di servire e proteggere l'agente della contea di Collier. Nell'agosto del 2004 il vice Colkins viene licenziato a causa della violazione delle procedure e delle politiche dell'agenzia. Anche dopo che il vice sceriffo Colkins viene licenziato l'ufficio dello sceriffo continua a sostenere che non ci sono prove che gli indicano che Felipe e Terrence non siano più vivi. I casi sono ancora trattati come casi di persone scomparse non come indagini per omicidio. Felipe Santos aveva 23 anni quando è scomparso nel 2003. Era alto 165 centimetri e pesava 68 kg. Aveva i capelli neri e gli occhi castani. Terrence Williams aveva 27 anni quando è scomparso nel 2004. All'epoca era alto 172 centimetri e pesava 72 kg. Aveva i capelli castani portati in dreadlocks e occhi marroni. Aveva tre tatuaggi, la lettera T nella parte superiore sinistra del petto, le iniziali E T sulla spalla destra e la scritta Terrence sull'avandraccio sinistro. Aveva una cicatrice verticale sulla spalla destra e una voglia sul lato destro dell'addome. Detto questo io ho finito di parlare in questo video, spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere se conoscevate questo caso in caso fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Io penso che il vice sceriffo sia colpevole, lo ammetto, lo ammetto. Ma voi cosa ne pensate? Sono un sacco curiosa di leggere i vostri commenti, quindi come al solito ci si becca qua sotto. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!